Nonostante le restrizioni imposte dal governo per l'emergenza sanitaria in corso, seppur in disparte, Favara non ha voluto far mancare il suo affetto, la sua vicinanza e il suo dolore nei confronti della famiglia di Lorena Quaranta, la 27enne laureante medicina uccisa inspiegabilmente dal suo fidanzato, martedì mattina intorno alle ore 4 con una coltellata e poi strangolata a mani nude. Nel pomeriggio intorno alle ore 16 è arrivato nella sua Favara dove Lorena è nata e cresciuta la sua bara con il carro funebre. Da pelle d'oca l'accoglienza del popolo favarese che dai balconi o dai marciapiedi ha applaudito il passaggio di Lorena dentro il carro funebre. Già in mattinata il popolo di Favara aveva esposto le lenzuola bianche dai balconi per testimoniare l'ulteriore vicinanza verso il dolore della famiglia. Toccante il momento in cui il carro funebre si è fermato proprio davanti alla sua abitazione con tutti i familiari e più stretti conoscenti ad attenderla. Non sono mancate urla di dolore, lacrime di rabbia con successivo lancio di palloncini bianchi verso il cielo. Poi la tappa finale verso il cimitero dove ad attenderla c'era la sindaca di Favara, Anna Alba. L'arcidiocesi sul mito del sindaco, della prefettura e degli stessi familiari ha concesso un piccolo strappo al divieto di cerimonie religiose che è stato imposto per prevenire il contagio da coronavirus. Nessun funerale vero e proprio ma è stata concessa la liturgia della parola, una breve funzione religiosa nella cappella del cimitero, ufficiata dal parroco dell'Itria Don Calogero Lobello, alla quale hanno partecipato solo i familiari, il sindaco che ha donato una corona di allora alla famiglia 40 e il legale della famiglia Giuseppe Barba che ha omaggiato i familiari di Lorena d'un camice di una pediatra. Intanto è stato tradotto in carcere il suo assassino Antonio De Pace, il giovane infermiere reoconfesso dell'omicidio di Lorena 40. L'avrebbe prima colpita con un oggetto contundente, poi strangolata nel cuore della notte, del tutto incapace di porre un freno ai suoi istinti criminali. Così il giudice Fiorentino ha definito l'omicida nel provvedimento che dispone per lui il carcere. Il GIP gli contesta l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili e abbietti motivi e dalla circostanza di aver agito contro la commivente.